Un cartellone che avete messo in piedi davvero di tutto rispetto. Si inizia con questo appuntamento con Storace il 24 di ottobre. Sì, viene Francesco Storace, viene a presentare il suo libro La prossima destra. È un bel libro che lui presenta in tutta Italia ed è molto interessante perché spiega gli ultimi vent'anni del centro-destra. Dall'ascesa di Berlusconi, all'ascesa di Fini, alle loro cadute, all'errore di Fini che ha fatto quando si è schierato contro Berlusconi. Insomma tutta una serie di episodi, di aneddoti che lui presenterà, soprattutto la guerra che ha fatto con Napolitano. Insomma tutte queste cose. Dà anche dei consigli ai giovani come fare politica, che la politica è bella ma nasconde tantissime insidie. Per cui mi invito tutti il 24 di ottobre alla Sala Rosa del Comune di Arezzo all'Euro 21, alla presenza del Sindaco Chinelli, verrà Francesco Storace. Ma abbiamo, come hai detto bene te, fatto un cartellone di tutto rispetto. Abbiamo già fissato tre eventi. A novembre verrà Antonio Preziosi, ex direttore del Tg1, vaticanista, direttore del TV2000 del Vaticano, a presentare in anteprima nazionale il Giubileo di Papa Francesco. Un bellissimo libro scritto da Papa Francesco che rappresenta l'essenza di quello che voleva dire il Giubileo di Papa Francesco. Poi andiamo ad aprile e ad aprile ci sarà un bellissimo evento organizzato da noi l'associazione Ema Pesciolino Rosso. Papà Gian Pietro ha perso il figlio per aver ingerito una pasticca di droga e si è suicidato dopo aver ingerito questa pasticca. Lui gira tutte le scuole per far conoscere la devastazione delle droghe ai ragazzi, per far capire che le droghe uccidono. Non è vita, non è sballo, ma è solamente un uccidersi e quindi lo faremo in collaborazione con tante scuole di Arezzo e quindi questo è un altro grande evento. Ovviamente da qui a novembre e da qui ad aprile ci saranno anche tanti altri eventi che abbiamo già messo in cantiere ma di cui aspettiamo l'ufficialità. Quindi ancora una volta cultura nazionale colpisce nel segno, un grande cultura d'Arezzo e invitiamo tutti ai nostri eventi.